Si sta ormai delineando la bozza di decreto che impatterà sulla vita dei contribuenti. In questo video voglio parlarti delle opportunità che nasceranno da quella che potremmo definire l'integrativa agevolata. Cioè questo decreto consentirà di sanare le violazioni che si sono commesse nelle dichiarazioni dei redditi degli anni passati con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 20% alternativa alle imposte ordinarie. Cerchiamo qui di capire a chi conviene e quando conviene. Vi faccio un esempio. Immagina che tu abbia un SRL e due anni fa nella tua dichiarazione dei redditi ti sei dimenticato di tassare 20.000 euro di costi che erano indeducibili. Li hai dedotti e ti sei dimenticato di fare una variazione del reddito imponibile di 20.000 euro. C'è dunque un'evasione di imposta pari all'IRES e all'IRAP su 20.000 euro. Bene, se tu aderisci alla nuova integrativa agevolata pagherai solo il 20% di 20.000, quindi pagherai l'imposta sostitutiva di 4.000 euro. Quanto pagheresti invece facendo un ravvedimento ordinario? Lo vediamo nella tabella che segue. Come vedi in questa tabella ho indicato l'IRES che ho applicato nella misura vecchia del 27,5% per 5.500 euro. L'IRAP 3,9% per 780 euro. Le sanzioni che sono pari al 90% della somma dell'IRES e dell'IRAP ridotte ad un sesto perché con il ravvedimento si possono ridurre ad un sesto le sanzioni e poi gli interessi. Il totale di quanto tu pagheresti con un ravvedimento ordinario è di 7.279 euro. Quanto ti sarà consentito di pagare con il ravvedimento che sta per uscire nel decreto è invece pari a 4.000 euro. Ora è evidente qui che tanto maggiore è il beneficio di questo nuovo ravvedimento, tanto più alta è l'aliquota d'imposta. È chiaro che nessuno che si sia dimenticato di dichiarare un reddito d'affitto su cui paga il 10% di cedolare secca aderirà a questa misura perché pagherebbe molto di più, più conveniente il ravvedimento ordinario. Se l'aliquota dell'accedolare secca è il 21% si risparmia un 1% di imposta e le sanzioni, non granché. Se le aliquote come nell'esempio che ho fatto sono il 27,5% e il 3,9% di IRAP è già qualcosa in più, molto maggiore invece il risparmio per chi avrebbe dovuto assoggettare redditi e non l'ho fatto e ha un'aliquota del 43%. Quello è il caso in cui è massimizzato il beneficio. Tanto più conveniente quindi questa misura, tanto maggiore è la tua aliquota. Ad ognuno la sua decisione, questo è un primo video di delucidazione ma ne verranno tanti altri perché tanti sono i temi sul campo ed il tema è ancora grandemente in evoluzione.